Si terrà il 5 agosto alle ore 18 in località Cannabosto di Olevano sul Tusciano la 14esima edizione della saga del brigante Nardantuono, una rievocazione storica dedicata agli eventi briganteschi che si sono verificati sul territorio in seguito all'Unità d'Italia. L'evento, organizzato dalla Proloquo e patrocinato dal comune di Olevano sul Tusciano, si svolge all'interno di una cornice naturalistica caratterizzata dallo sfondo della Grotta dell'Angelo e un anfiteatro naturale. La narrazione si articola tra storia e leggenda ed è allietata dalla musica dei briganti dell'Ermice. Ad Antonio Di Nardo, detto Nardantuono, è dedicata una parte della rappresentazione che ricostruisce il sequestro, avvenuto la sera dell'11 gennaio 1864 a Monte Corvino Pugliano, del prete liberale Giuseppe Olivieri, che racconterà il suo tragico incontro con i briganti in un libro uscito 30 anni dopo. E' inoltre proposta la storia del rapimento di Berniero, giovane di Olevano sul Tusciano e i successivi sviluppi della sua disavventura. L'ingresso è gratuito ed è previsto un servizio navetta per tutti gli spettatori. Ad allietare lo spettacolo inoltre vi saranno degli stand con degustazione di prodotti tipici.